buongiorno ragazzi iniziamo la visita della zona caffettera regione in cui ci troviamo in questi giorni tirando giù la moto dal camion perché vogliamo fare base qua per qualche giorno goderci tutto quello che abbiamo attorno con la comunità della moto tra l'altro ci ha contattato un amico di youtube dicendo che ha la famiglia che vive in un paese che sta proprio qua sotto quindi magari oggi l'andremo anche a trovare vediamo cosa succede bene la moto l'ho tirata fuori adesso rimetto tutto a posto siamo pronti per la nostra giornata di visita partiamo la prima cosa che dobbiamo fare è andare al paese di salento a vedere se troviamo un posto dove compare l'assicurazione per la moto perché quando siamo entrati colombia abbiamo fatto solo per il camion e non per la moto proviamo a chiedere al gasolinero se sa dove si può occupare l'assicurazione paese troppo turistico non vendono le assicurazioni a mese dobbiamo andare ad armenia a vedere se la troviamo quindi ci faremo questi 30 chilometri senza sicuro che palazzoni ci sono ad armenia all'ingresso della città stanno costruendo anche lì c'è un negozio dove c'è scritto soat che sarebbe assicurazione da vedere nada solo un anno anche qua questa è una via dove vendono un sacco di moto sapranno avesse comprare l'assicurazione mi ha detto che dobbiamo andare all'officina centrale ma la dobbiamo trovare parcheggiamo la moto al garage ed è comodo perché puoi lasciare anche il casco e facendo il deposito per i caschi comodo posizione un po non tanto buona però faccia del mango qua il sacchetto più grande è 5.000 peso quello più piccolo 3.000 un dollaro e mezzo un dollaro e qua invece insalata di frutta salata di frutta non manca mai questo è il centro di armenia il seguro dovrebbe essere in questo palazzo andiamo a vedere niente hanno chiuso per la pranzo a franzo proprio adesso un minuto fa quindi dobbiamo tornare più tardi ma visto che ci stanno aspettando per il pranzo i parenti dei nostri amici conosciuti su youtube ci spostiamo e torniamo più tardi ragazzi in mezzo al traffico è inutile che vi dico che faccia un caldo pazzesco il ministero dei trasporti qua ha fatto un servizio che non so come funzionerebbe da noi praticamente se fai cancelletto 767 metti il numero della targa di uno che ti sta simpatico o antipatico e scrivi come guida gli dai un punteggio allo monica sono lucia molto bene grazie e credo che siamo in fronte di tua casa siamo in una moto siamo invitati a pranzo bellissimo come si chiama il suo plato il sancocio di gallina il sancocio di gallina il sancocio di gallina il sancocio di gallina anche voi si come tutto questo? no questo è bocadino guajava dolce e se come? perché? se come con la mazamorra mazamorra che è fecha di petto, di maiz pila, se pila il maiz è buono come è buono e qui non lo provo a vedere ci hanno portato il gelato io amo il gelato buono ciao ciao grazie anche a lui piace tanto il gelato ciao ciao grazie 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 ciao 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 bene dopo pranzo riproviamo ad andare al centro a vedere se riusciamo a fare l'assicurazione ecco c'è il parcheggio questo cosa sta friggendo? c'è un odore di fritto madonna sembra che sta friggendo la plastica vediamo se riusciamo ad uscire dall'illegalità e farci un'assicurazione per la moto ispezione dei documenti c'è qualcosa che non torna dunque la cosa incredibile ragazzi è che ti chiedono prima come paghi se in contanti o carta di credito poi vedono se possono soddisfare la tua richiesta poi vediamo adesso ce la dando la situazione sembra più complicato che in dogana in cinque minuti l'abbiamo fatta per il camion qui in questa super assicurazione c'è anche la zona wifi allora andiamo qua oh però ci hanno offerto anche il caffè e la tazzina è anche marchiata cavolo buona nel frattempo l'attesa prosegue ci sono problemi penso che sia la prima volta che fanno la situazione degli stranieri il previsore a seguros ci ha rimbalzato non riescono a mettere nel sistema la marca della nostra moto e quindi non ci fa l'assicurazione ha detto che dovevano chiamare a Bogotà per farlo inserire nel computer ci sarà brutto un sacco di tempo e non potevano farlo quindi rimbalzati da questa assicurazione andiamo a cercarne un'altra ci hanno dato due indirizzi vediamo se saremo più fortunati a tempo dobbiamo pagare altri 800 pesos per il nostro parcheggio ma ce la faremo ce la faremo per andare dall'assicurazione dall'altra ci stiamo macinando un bel po' di fumo secondo tentativo proviamo aspettiamo anche qua ci hanno chiesto immediatamente come paghiamo mi ha fatto spostare una moto perché hanno detto che passava la polizia e mi faceva la multa ottimo qua ce l'avrebbero venduta per tre mesi previa richiesta che dovevano fare l'ufficio centrale però costava un po' tanto 40 dollari per tre mesi vediamo se la compagnia che c'è qua più avanti ci fa un prezzo migliore terzo tentativo sicuro dell'estado vamo a sapere non ce la facciamo riuscire dalle illegalità altro giro di artesa solo il primo però ci hanno offerto il caffè si caderebbe un bicchiere d'acqua oh alla fine ci hanno chiesto se volevamo il caffè con l'acqua stiamo aspettando un risposta da Bogotà speramos potrebbe succedere di tutto nel frattempo gli impiegati stanno festeggiando anche un compleanno non ce ne andremo mai magari ci hanno un pezzo di torta però che coloroso bene dopo quasi due ore passate qua dentro ad aspettare non sono riusciti a farci l'assicurazione perché non trovano il modello della moto nel database bene ragazzi ancora per un po' nell'illegalità ci muoviamo qua attorno quindi non abbiamo troppa paura facciamo un percorso fuoristrada proprio qua dietro per andare a vedere come si lavora il caffè perché siamo nella regione del caffè quindi andiamo a vedere qualcosa questa mattina vamos stanotte ha piovuto davvero di brutto cioè qua è tutto allagato meno male che non ci dobbiamo spostar col camion sennò qua gli distruggeremo completamente il giardino credo faremo dei solchi come dei canali di irrigazione ci hanno detto che l'elocaso è l'azienda di produzione del caffè più industrializzata che c'è qua noi vogliamo andarne a vederne una più casereccia che dovrebbe essere proprio alla fine di questa strada comunque non fa caldo per niente comunque il giro senza maglia eh sono partito un po' sportivo mi sa che adesso ho letto la magliettina qua io non so perché sarà a suefazione ma sento profumo di caffè queste sono tutte le coltivazioni di piante di caffè vediamo se oggi riusciamo a farci convertire dal Nescafè al caffè colombiano la strada è bella fangosa e ciò ci diverte il moto va bene se non piove ci divertiamo che fuori bene ci troviamo alla finca Don Elias che è una delle tante finche caffetere che si possono trovare su questo percorso che abbiamo fatto che corre lungo questo fantastico fiume ora abbiamo organizzato un mini tour e ci porteranno a visitare un po' tutto il processo della produzione del caffè dall'inizio alla fine cosa interessantissima perché noi non lo conosciamo quindi tutta la novità per noi andiamo a vedere qui ci troviamo nella parte alta della finca che è una finca è una caffè gestita da una famiglia dove mediamente a seconda della stagione lavorano tra le due e le otto persone dove si coltiva il caffè in maniera completamente organica e si utilizzano le due tipiche piante del caffè l'arabica o la colombiana ci hanno detto che il sapore è esattamente lo stesso l'unica cosa che cambia è il frutto che l'arabica quando è maturo è rosso mentre il colombiano è giallo queste sono le nuove piante di caffè che vengono coltivate in questo piccolo ambiente quando crescono leggermente vengono messe dentro questi sacchetti i sacchetti servono a far crescere più velocemente le radici una pianta inizia a produrre caffè dopo circa due anni e dura diciamo come tempo di vita circa 25 una cosa davvero interessante che ci hanno spiegato è la funzione delle piante da frutto che sono messe all'interno del campo di alberi di caffè l'albero di banano serve a rilasciare acqua al terreno e quindi a farlo assorbire maggiormente dagli alberi di caffè viceversa quando piove tanto come in questa stagione ci sono all'interno della piantagione anche degli alberi di avocado questi alberi hanno bisogno di molta acqua e quindi assorbono l'acqua in eccesso e ora stiamo camminando proprio nel mezzo della piantagione vera e propria una pianta di caffè ha una vita di circa 25 anni ma per la produzione viene utilizzata solamente per 17 questa pianta ha otto anni ogni otto anni vengono tagliate le piante e vengono ridotte a questa misura con un tronco vecchio di otto anni e la piantina che comincia a ricrescere nuova questo perché quando la pianta ha otto anni produce molto meno caffè anche se di altissima qualità quindi per aumentare la produzione e livellarla a degli standard diciamo ottimali viene tagliata per far sì che cominci a riprodurre nuovamente molti frutti quando la pianta raggiunge i 17-18 anni di età viene sostituita con un anno la funzione delle piante aggiuntive non è solo quella di regolare la quantità di acqua presente nel terreno ma anche di regolarne l'acidità infatti qui viene controllato costantemente attraverso degli strumenti il pH della terra e questo perché a seconda se una zona è più o meno acida vengono piantate delle piante appositamente per controbilanciare l'eccesso o la scarsità di acidità nel terreno qui abbiamo il fiore del caffè che dovete sapere che ha una vita di soli tre giorni la pianta del caffè è una pianta ermafodita e quindi non ha bisogno di un'impollinazione da parte degli insetti nella parte bassa della piantagione c'è il fiume in quella parte non vengono messe piante di caffè perché l'acqua sarebbe troppa e quindi le piante non avrebbero una buona produzione all'interno della piantagione circolano anche dei polli questi hanno una duplice funzione la prima è che si puliscono tutti i sentierini dove devono passare le persone che lavorano qui in mezzo ma poi una funzione davvero importante e che noi non avevamo assolutamente pensato è che si vanno a mangiare tutti degli insetti tra cui anche alcuni insetti che potrebbero essere potenzialmente pericolosi perché il caffè va raccolto a mani nude chi va a raccogliere il frutto deve tastare ogni singolo frutto uno a uno e capire se è maturo o no quindi l'aiuto dei polli fa sì che non ci siano insetti che possono essere toccati a mani nude da chi lavora qui in mezzo anche i polli sono fondamentali ma il caffè non è originario di queste regioni del Sud America come sappiamo il caffè nasce in centro Africa qui ce l'hanno portato gli spagnoli grazie allo sfruttamento degli schiavi però abbiamo detto che c'è il caffè colombiano il caffè colombiano quello con il frutto giallo è di fatto una trasformazione naturale che ha avuto il caffè arabico quando è stato portato qui negli anni, nei secoli a questo punto si è trasformato diventando giallo per questo comunque il sapore rimane abbastanza similare questa è la prima macchina che viene utilizzata nel processo della produzione del caffè io la chiamo spolpadora loro la chiamano spolpadora cosa serve? serve per togliere la buccia del seme del caffè e farlo cadere dentro questa vasca qui il seme rimane una notte per iniziare un processo di fermentazione il giorno dopo cosa succede? questi semi vengono messi in una bacinella d'acqua e si guarda quelli che galleggiano e quelli che affondano quelli che affondano sono i semi di alta qualità quelli che galleggiano sono di bassa qualità in questa sera abbiamo la seconda fase quella dell'essiccazione qui i semi a seconda della quantità di sole ci stanno tra gli 8 e i 25 giorni praticamente vengono fatti seccare ancora nessun profumo e la serra vi posso assicurare che svolge la sua funzione perché qua sotto fa un caldo pazzesco questa macchina mi offre la possibilità di scegliarvi il secondo processo manuale che è quello di spelatura del seme i semi dopo la fase di essiccazione che abbiamo visto vengono messi qua dentro e gli viene tolta la pelle girando questa manovella viene tolta la pelle dal seme e a questo punto si ottiene il seme di caffè verde praticamente siamo pronti per la fase di tostatura questo è il caffè verde e siamo sopra i fornelli della tostatura abbiamo tre tipi di tostatura la suave, la media e la forte tempi da 20 minuti a 40 minuti meno il caffè è tostato più abbiamo presenza di caffeina ma il caffè sarà meno saporito quando viene fatta una tostatura lunga il caffè è molto saporito ma ha poca caffeina quindi una tostatura media diciamo un equilibrio tra le due cose sapore e caffeina una cosa molto importante che ci hanno spiegato è quando si mette l'acqua nel caffè se io vado a mettere acqua che bolle quindi a 100 gradi vado a togliere completamente tutta la caffeina il caffè andrebbe fatto con acqua tra gli 80 e gli 85 gradi e dopo la tostatura chiaramente c'è la fase di macinatura vera e propria qua si comincia a sentire il profumo del caffè quindi ora bisogna preparare il caffè qui viene preparato tradizionalmente con il metodo filtrato quindi si mette un cucchiaio grande di caffè per ogni tazza il caffè viene filtrato con questo filtro di cotone che è tipico di questa regione prima di mettere il caffè filtrato nella trazzina bisogna pulire il caffè usando un po' d'acqua e buttandola via questo processo serve per togliere l'acidità presente nel caffè come abbiamo detto prima l'acqua non deve bollire quindi tra 80 e 85 gradi però ci hanno anche detto che questo non è proprio il metodo migliore per preparare il caffè nonostante sia quello uno strano perché tipicamente è molto difficile calibrare bene la temperatura dell'acqua quando la metti sul fornello sapete qual è il metodo migliore? la moca italiana ci hanno confermato che in Italia abbiamo inventato il metodo migliore per assaporare il miglior caffè prima di andare però vediamo questa finca dall'alto perché se non è qua attorno deve essere bellissimo ci sono partenari poi ci sono stati un po' di metodo migliore per le miglior prima di metodo migliore per… ci sono stati jobbrachti se non ci sono stati trovati ci sono stati che hanno incontagi bene anche questa visita dall'alto è terminata si notava particolarmente la presenza delle piante di banano in mezzo alle piantagioni di caffè e ora abbiamo capito perché quindi ora andiamo a visitare il pueblo di salento questa è la via principale di salento è un posto turistico però molto carino c'è anche il caffè danubio che di fatto è una sala bigliardi e guardate che bella che è è davvero qualcosa di magnifico prima di proseguire la visita però visto che è tardi ci mangiamo qualcosa e qua ci hanno un po de todo empanada che ha il carne e robolle e tambiano una fresa pollo fritto che qua chiamano bros ter empanada di poio questa sarebbe la repa ripiena con un uovo però siccome l'uovo l'abbiamo mangiato anche stamattina basta io mi sono preso un'empanada e una presa questa è l'arepa questa è una repa bianca non avevi fame ma mangia più di bene è venuta fame guardando le cose e poi c'è questa salsina questa me la spavo è piccante qui ci dobbiamo preparare al piccante perché d'ora e poi c'è un piccante qualsiasi cosa anche il caffè mi è voluto seguito anche a me col piccante il volon qua non si sa che però il succo di mora con il latte è buono siamo a frappè ci devi mettere tanta salsa 12.500 4 dollari e abbiamo mangiato le vie di salento sono coloratissime guardate i balconi tutti dipinti in colori differenti molto calienti guardate anche le porte di questa casa belle anche le porte sono davvero belle chiaramente qua tutto è incentrato sul caffè colombiano e sull'artigianato tantissimo artigianato locale ma un fatti davvero di tutti i tipi ma molto elaborati molto belli vi risparmio la sofferenza che dovrò provare per salire tutti i gradini che portano al mirador di salento quindi in un batter d'occhio ci troviamo di sopra e rieccoci qua è stata dura però ne valeva la pena tantissimi cani d'italia di kenya e questa è la piazza principale di salento la cui particolarità oltre ai colori dei palazzi che la circondano è il parcheggio delle jeep dovete sapere che queste sono il mezzo di trasporto principale per muoversi collettivamente quindi come dei taxi per le strade sterrate che circondano la città in pratica questa è come la fermata dei pullman aspetti l'orario giusto sali nel retro della jeep e ti fai portare dove ti serve nella piazza c'è anche l'immancabile chiesa questa volta è aperta è una chiesa sopra senza molte decorazioni ragazzi questa ormai la riconoscete è la spulpa d'ora naturalmente per fare il caffè ragazzi io vorrei a farmi una barigliata in questo locale solo per vedere come funziona questa braccia e guardate qua costruita su misura su tutta la parte anteriore di una macchina d'epoca grazie ragazzi ci credereste mai che questa è la sede di una banca e qua c'è anche il banquemat fantastico c'è anche la zona wifi ma come se non bastasse c'è anche la zona delle carri presa di corrente e presa usb ammazza oggi qui a salento fanno vaccinazioni e altre cure per gli animali gratuitamente e quindi ci sono persone che portano sia cani randaggi che i propri cani a farli curare o vaccinare quindi dopo una giornata così istruttiva che abbiamo anche capito come si fa il caffè torniamo a casa bene per questo episodio è tutto abbiamo iniziato a farvi scoprire un pochino la zona del caffè dove ci troviamo in questi giorni e come potete capire si tratta di una regione davvero molto speciale e importante per la colombia lo stiamo capendo sulla nostra pelle sfortunatamente il meteo qui non è dei migliori ma non è colpa di nessuno questa è la stagione delle piogge e quindi dobbiamo prendere un po' quello che viene cerchiamo di schivare per quanto possibile i temporali che possono essere davvero fortissimi e visitare quanto più possibile senza lavarci tutte le volte che usciamo ci sta piacendo davvero tanto per questa sera è tutto grazie per essere con noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao